Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle nostre, anzi delle vostre, funny moment Allora, ho fatto pulizia, quindi oggi troverete il link qua sotto per mandarmi le clip nuove Mi raccomando, clip tagliate, clip corte sul momento, clip interessanti ragazzi Più sono veloci e più riusciamo a montare meglio i video e a farli uscire quotidianamente Arriviamo a mille like, condividere i video, iscrivetevi al canale, lasciate l'hashtag funny moment Qua sotto nei commenti per ricevere il cuoricino e andiamo a vedere le vostre clip Ma non fate di Rex, mi raccomando, se no lui viene ad attaccare Questa clip ce la manda Wargamer, due super kill col Beryl, andiamola a vedere Dovebbe essere Dennis, due super kill col Beryl, vediamo un po' cosa si inventa Allora, rimbalzo nell'acqua, mamma mia, fantastico, si butta direttamente sul pocio, aggressivissimo Oh miseria, esagerato, rimane pure vivo, GG Questa clip me la manda Simone, assolutamente, andiamola a vedere, l'ho dovuta tagliare di tantissimo Allora, siamo già a Brawler rimanenti 6, si butta di cattiveria, rimane vivo con 50 di vita contro quello stecca Cattivissimo Simo Ok, Brawler rimanenti 5, quindi saranno tutti là al centro ad aspettarlo Sicuro al 100%, ragazzi Sei in una situazione molto stretta, infatti di attesa, anche se con 6 power up ce la dovrebbe fare Deve stare attento soltanto alle mega enormi scegli, anche se sono state, per fortuna, depotenziate Ok, là c'è un Bull nascosto Da sotto si stanno combattendo, parte aggressivissimo, va verso il basso, fa l'al, muore perché giustamente non sapeva fosse là dentro E rimangono in 3, 2 Brawler rimanenti, rimane il Bull 6 power up, 7 power up, cattivissima battaglia finale Ok, 4.200 lo prende, mette scudo, ciao ne Bull Angela mi manda questa clip, ecco Angela, andiamo a vedere Angela che combina con il primo Ok, una clip molto veloce Nel primo nascosto nel posto giusto, al momento giusto, la rosa viene devastata Adesso jumpa sopra il Bull e ne sono quasi sicuro, boom Vai che si fa pure lo shot nel Bull Oh, jump contemporaneo, fantastico Angela Questa clip mi la manda Cat Gang, andiamola a vedere Ok, dovrebbe essere nessuno, e già il nome dice tutto Ok, andiamo a vedere Bibi, Bibi cattivissima, rimasti in Brawler, rimanenti 3 Contro il Robottone, ok, si combattono Qui si mette là sotto, sbam Contro Muretto, rimbalzo di Super, scontro finale Sbam, no, uccisione di Super con rimbalzo Roberto mi manda questa clip velocissima che è Bob Gamer Andiamo a vedere Bob Gamer cosa si inventa, ok Penso che farà un furto e un'uccisione doppia Sicuramente un'uccisione doppia cattivissima Sì, vabbè, che double iniziale, stupenda Sebastian ci manda questa clip, andiamola a vedere insieme Squadra rimaste 3, ok, Sebastian muore subito, subito Cattivissimo proprio Ok, il suo compagno sta per morire Mamma mia, si è salvato con 113 di vita Oh, 95 di vita, che cosa sta facendo quel Kaido, raga? Cioè, è da pazzi Come è sopravvissuto, non si sa E continua a sopravvivere, adesso rinasce anche Sebastian Ecco qua, oh, super, botta in faccia Il suo compagno muore, ah Deve andare a prendere tutti i suoi power up prima che spariscano Ok, vai Sebastian, vai Sebastian Fatti valere, il tuo compagno ha dato la vita e ha combattuto fino all'ultimo Tocca a te Ok, là ci sta il team avversario, due power up Anzi, otto power up là dentro, cattivissimi È ripartito Kaido Sebastian da lontano, di rabotte Boom, ok, è rimasto solo lui Super da quel lato, ucciso l'Eugenio, rimane solo quella Shelly Ciao, ne Shelly Che vuoi fa? Niente Ho dovuto saltare la clip di Mr.BlazeFenix Andiamo a vedere quella di Scorpion, ragazzi Gixtombola, vediamo cosa ci fa vedere Allora, è un... ok A team, a squadre Una sopravvivenza a squadre Lui, Gixtombola, è da solo, non so dove è il suo compagno di squadra Mamma mia Sì, vabbè, guarda che cosa è sopravvissuto Gli hanno tirato di tutto È ancora vivo E sta da solo Dov'è il suo compagno? Dove si è nascosto? Vai, sopravvive ancora, se dà Ok Tombola, tombola Scappa in giù Eccolo Giulio Il suo compagno stava da un'altra parte L'elefante ci manda questa clip Andiamo a vedere l'ele Ok, dov'è? Quale sarà di loro? Forse Pans, forse Dance Ok Stanno andando avanti Uccisioni interessanti 8 a 9 Oh, potrebbero perdere all'ultimo secondo Fanno un gol Usi un gol Una kill all'ultimo secondo Eccola Eccola che arriva Boom Sulla Tara Uccisione 10 a 9 Che vittoria all'ultimo secondo Nicolas mi ha mandato questa immagine Penso si sia sbagliato Però la cosa interessante è che vedo 4 attacchi sotto al personaggio sotto a Corvo Chissà perché Allora, questa clip ce la manda Pietro Plolz Che dovrebbe essere MZ a Steph È una partita abbastanza lunga Ve la voglio far vedere per farvi capire come Steph si era impuntato per uccidere quel Seggi E non c'è mai in pratica riuscito Guardate Allora, Seggi si è salvato in questo momento Là sopra Lui è morto giustamente Adesso questo va a combattere contro gli altri Due Cattivissimi Intanto il suo compagno Boce cerca di infastidirli Pam Pi ha un colpo Rimane salvo Probabilmente Rasputin non aveva la super quella nuova Quindi non gli ha potuto fare danni per ucciderlo Rinasce Steph Steph tira qualche colpo a Monster È pronto Intanto Rasputin scende Ok, gli leva la torretta Giustamente Seggi esce da là Lo uccide Quindi Seggi rimane ancora vivo Con 530 di do Finalmente ucciso Finalmente ucciso Però non l'ha ucciso il nostro ragazzotto Che sicuramente adesso continuerà la partita Vediamo un po' Allora Abbiamo Rasputin che da solo continua a tenerla bene Monster che dall'altra parte sta lì incastrato Ok Travel il compagno di Seggi Che si salva giustamente perché appena è respawnato E Steph ce rimore Sempre contro Seggi Seggi lo devasta Seggi non gli dà la possibilità di ucciderlo Bam Scontro finale Rimanerà Rasputin Viene ucciso Mark Paul ci manda questa clip molto veloce Eccolo Mark Paul Con il bellissimo E il primo Penso che sia un salvataggio all'ultima percentuale E poi dopo lui intanto va sopra a menare Ok I suoi compagni di team Sembra che stanno cercando di difendere 5% Dolore 1% a 223 di vita Intanto Mark Paul tranquillamente Se sta a prendere la cassaforte Taglie Eccolo Se fa il giretto Tranquillo tranquillo Non se lo calcolano Lui si avvicina Ecco qua Cercano di fermarlo Ma non possono nulla contro di lui Cattivissimo Vittoria 1% a 0 Mark X Sarebbe Higuain Ci sta mandando questa clip Andiamola a vedere insieme Che cosa si inventerà questo ragazzo È una clip nonostante tutto Molto veloce Ok Eccolo che parte Colpone Colpone davanti Super Oh 300 No Ha caricato sulla super Infinite ci manda questa clip Dovebbe essere quel cambiba No infinite Eccolo Infinite lo vediamo Lo vediamo Con il colt Che gol farai Di rimbalzo Di muro Di distruzione Come fai Ah proprio all'angolo a destra Cattivo Questa clip Ce la manda Natalie Gaspar Ragazzi E è una clip Con i bot Ci sta facendo vedere Sempre uno dei bug Delle unioni Tra due super Come vedete Vedete un colt Che fa le fiammette In stile bombardino Però sotto ogni attacco Che casca Quindi molto interessante Questa clip Ce la manda Not Dark Che dovrebbe essere Exos Darkness Ho preso la parte Proprio finale Ok Si approfitta Di una kill Fantastica Intanto il suo compagno Torna in vita Che ha 4 RS Ok Battaglia molto grande Perché lui c'ha 10 power up Oh Oh Eccolo Eccolo Vittoria Vittoria cattivissima Questa clip Ce la manda Grab TV Che dovrebbe essere Mauriniti Probabilmente Non so Penso di si Eccolo No Gli ha parato In una maniera infinita C'è anche P.E. P.E. e il Mortis Ok Andiamo a vedere Che cosa combinano Ora devono difendere Da quell'attacco Non è andato Oh Parata da Mauriniti Mamma mia Che paratona GG col Pocho Bam Rif aggressivo Devasta sempre Anche depotenziato Non ci frega niente Pocho è sgravissimo Eccolo qua Colpetto doppio Emo carica pure la super State a vedere Stanno difendendo Con i denti ragazzi Stavano 0 a 1 Secondo me Arrivano a fare L'1 a 1 Alla fine Proprio all'ultimo Secondo Agli ultimi spiccioli 14 13 12 Eccoli Mauriniti P.E. vanno in avanti Cercano di attaccare Ce la faranno i nostri eroi Oh Rif aggressivo Per curare e fare danno Mauriniti Non gli frega niente E Pier All'angoletto Passa a Mauriniti GG 1-1 Overtime Fantastica Aiato Ci manda questa clip Molto veloce Pierlu Vediamo Pierlu Che cosa si inventa Pierlu e il suo compagno Nurki Ok Zero power up Due power up Per Pierlu 12 e 12 Per i team avversari Wow Devastato uno di loro Prendono i power up Ecco Pierlu Pierlu cattivissimo Pierlu colto 13 Eccolo Boom Sciottone Ciao Ne 13 Questa clip Di oggi Ce la manda Luca Vediamo un po' Cosa fa Luca 30 Eccolo Bam Ok con una BB Assolutamente Un team doppio vivo Lo vuole uccidere contemporaneamente Boom Colpo Super Super rimbalzo Super rimbalzo Tutti e due con la super E va bene ragazzi Siamo arrivati alla fine di questo Funny moment Troverete il link in descrizione Per mandare le nuove clip Finalmente ho fatto un po' di pulizia Arriviamo a 1000 like Condividete e dire Schietate al canale Se noi Lascia l'hashtag Funny moment Con sotto i momenti Per ricevere un colicino E non fate il t-rex Che se non lui sa rabbia Anche se sta un po' addormentato